Baila, let me see you dance, man. Raffaele Di Nardo, un altro sponsor della Daniello Bike. Ricordiamo a tutti di andare a gustare le pietanze del Raffaele Di Nardo, di pizza e capricci, che è un emblema a quali hanno. Raffaele, una delle tue specialità, penso che sei brava in tutto, però qualcosa in particolare, c'è sempre la chicca della casa. Sempre c'è capricciosa. Ah, sempre c'è capricciosa. Ma la pizza deve essere in modo tradizionale, qua se cambia... Lassica, rova e margherita. Margherita. Antonio, qualcuno potrebbe insinuare che tu sei stato alla fiera come turista, invece Antonio ha portato dei risultati, no? Ma io vado in fiera non per farmi vedere dagli altri, ma insomma per portare i risultati. Ricordi. Dopo la fiera sono stato da varie aziende per concludere alcune trattative, quindi insomma quello che devo fare è fatto. Grazie. 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 poi ho ripreso come ho lasciato sempre davanti a tirare perché questi sono una banda di succarute che tu ce l'hai nel sangue, in particolare Mario Lanuo era stupido che oggi ha fatto l'ennesima brutta figura sia con me che con Tommy, si è staccato perché diciamolo tutti lui si allena quasi tutti i giorni, tu saltuariamente, ho detto che sul fassopiano di Ricola dove stanno i carabinieri mi ha staccato, ma a quanto pare ora sto davanti io e lui non c'è, sta indietro, hai fatto il buco indietro non ho capito Mario, ma sei solo chiacchiere e contro soffittature, eppure ha una bicicletta blasonata, una bicicletta prestigiosa, una bici montata da me, da te in particolare, montata per farla andare più veloce però comunque non c'è nulla da fare, forse con lui sono le mani, è una schiappa Mario ti sei messo a paura ci abbiamo anche quel coglione di Marco Lataga dietro, Peppe questo video deve essere senza censura no assolutamente, persone integrate Marco vieni, un animale in via di estensione alzate la voce se non mi sono in via di estensione, Fabrizio Bo ma il palataga ha detto anche il coglione, ecco, guarda ti voglio bene, allio Fabrizio alzate la voce ed è per questo che questa squadra diventa la caula più forte e vabbè dai forza fai un favore fai un po' di inquadratura alle signorine che stanno indietro alle signorine che stanno ai bordi della strada le voglio fare un saluto particolare ah si sono questa luna piena sono questa luna piena come on, y'all come on, y'all